Tutti i giorni le donne affrontano una vera lotta contro il tempo. Quando poi accade un fuori programma, la situazione diventa insostenibile e bisogna accontentarsi di quello che c'è in casa. Forse le donne di oggi meriterebbero un po' più di comprensione. Tutto quello che le donne si meritano. Big Pure Tre Lady, il rasoio tre lame che aggiunge alla praticità e alla precisione di un rasoio maschile il comfort e la delicatezza di un rasoio femminile. Il primo rasoio che va incontro alle donne, mettendosi direttamente sulla loro strada, facendo risparmiare del tempo, seguindole nel loro percorso abituale, facendole sorridere. Lanciando un concorso a premi, supportato da un sito web e da una campagna banner, per coccolarle con fantastici regali. Big Pure Tre Lady, tutto quello che le donne si meritano. Tutto quello che genera un incremento del valore nel tuo punto vendita. Come? Passando da due lame a tre lame. Individuando un percorso per accompagnarle nell'acquisto. Dando più visibilità per generare un maggiore acquisto d'impulso. Big Pure Tre Lady, una nuova opportunità di business. Big Pure Tre Lady prodigio Emissione Que scanning Qual Wrong